3, 2, 1, vai. Buongiorno, qui alla mia destra vedete c'è il terreno che è stato acquistato, regolarmente acquistato dai ROM. Come vedete sono iniziati dei lavori, hanno fatto dei lavori di sbancamento. Non è possibile fare questi lavori, però nonostante le denunce dei cittadini, nessuna azione è stata intrapresa dal nostro sindaco. E quindi ci domandiamo se è possibile che un qualsiasi cittadino prima di muovere anche solamente una pala deve chiedere permesso al comune e qui si facciano questi lavori senza che nessuno intervenga. Qual è il motivo? Noi qualche idea ce l'abbiamo. Sicuramente questi sono voti, sicuramente sono voti che fanno popolo nel momento in cui in una qualsiasi tornata elettorale bisogna andare a bussare porta a porta. Per cui non ci si può inimicare 150 circa voti di queste persone.